Ma buongiorno, ma benvenute, ma buonasera, buona mattina, non so cosa devo dirvi, non so a che ora voi guarderete il mio video, io so sempre come nell'altro, però sapete che a volte giro uno dopo l'altro quando anche io ho tempo. Che cosa facciamo? È finito anche il mezzo di marzo, ebbene sì, siamo già ad aprile, porca miseria, una cosa allucinante, incredibile, poco fa eravamo a Natale, ora siamo già in aprile, siamo passati nel mezzo di primavera perché aprile è il mese di mezzo della stagione, ok? Perché poi è maggio e poi da giugno siamo in estate. Allora, vediamo che cosa ho consumato io in questo mese. Vi faccio vedere un siero, praticamente non è un siero, è un tonico, un tonico siero, un 2-1-1, è liquido, della Faberlic, linea biomica, col pH 5,0. È un prodotto buono ragazzi, ve la consiglio, andate a studiare un po' anche la linea biomica, è quella linea che i loro prodotti, cioè i prodotti di questa linea, aiuta a ripristinare e a mantenere in equilibrio il nostro strato biomico dalla pelle. Io questo lo uso ogni volta che mi lavo il volto con acqua, ok? Perché idrata e tutto quanto. Poi, balea. Sapete che se non fissa con i bagnoschiuma, questo l'ho usato anche l'anno scorso, l'ho preso di nuovo quest'anno, è il bagnoschiuma al profumo di carambola e anguria, 99 centesimi sapete. Salviette struccanti dalla Ebelin, molto buone se ve le beccate, le trovate da Dieme queste, sono buone, sono grandi. Salviette, no, sono i pads questi, scusate, sono i dischetti, queste sono salviette struccanti. Queste sono della setta blu, io le ho prese dal cinese, le ho trovate buone, mi struccoraro io con queste, però servono. Acqua micelare ultradelicata della Venus, ottima quando me lo becco, io di solito questi barotoloni grossi li becco, o da acqua sapone, da piume, oppure l'ho beccata addirittura a Lidl e l'ho presa, ottima. Questo prodotto l'ho preso qualche volta, cioè 3-4 volte fino adesso, ve la raccomando se lo trovate, è un prodotto ottimo, a me piace molto. L'ho usato sia come gel detergente per il viso, ma anche come maschera illuminante, perché lui funge anche di maschera. È un prodotto 2 in 1, è un prodotto alla vitamina C della linea Clinians, e non costa nemmeno tanto, gira intorno ai 4 euro. Poi, latte detergente struccante della linea Oxiology di Faberlic, top. Crema viso da giorno idratante della linea Global Ossigen, fenomenale. Non vi so dire, non so cosa hanno fatto loro con questa linea, però raga, che buon profumo. A parte il profumo, vedete, ce l'ho proprio... è buonissima, top. Io ho visto che la mia pelle cambiava, non è che la mia pelle avesse bisogno di troppi, troppi trattamenti, però quando ci metto qualcosa di forte, di diverso, dopo qualche giorno che la pelle si abitua, si vede la differenza. E questa ve la raccomando, c'è anche per pelle secca, se volete. Anche questo prodotto mi è piaciuto, infatti ne ho finito. Della Revuele, un Hydra Lift, una crema fluida per la notte, con acido e aluronico, con un'azione molto profonda per trattare le rughe. Guardate che peccarino, cioè facile e non sprechi nemmeno il prodotto, cioè non ti consente. Questi due li butto perché hanno ancora poco prodotto, ma sono scaduti. Sono i due colori di un fondotinta di Faberlic, Linea Everyday. Mi piace moltissimo, io ho sbagliato il colore, ne avevo presi due per mischiare, per ottenere il mio. Ora so qual è il mio colore, ma non lo prendo più in questo periodo perché mi avvicino verso l'estate. Voi sapete che io non, o se la compro me la tengo in casa, ma non lo apro per l'inverno. Io d'estate non uso il fondotinta, ma è un fondotinta buonissimo. Questo sì, ha una copertura alta. Poi, bagno e schiuma, sembra di Faberlic, ma siamo quelli invernali. Questo è Lovely Moments. Ecco il siero di quale vi ho parlato anche nel haul. Quello lì idratante della linea Skin Activator, Expert Skin Activator. Vi ho già detto che mi piace un sacco. La classica acetone della Sien, il classico che questo non ve lo rielenco, non mi sottofermo nemmeno tanto, è anni ormai che lo vedete da me. Lo struccante bifasico di Sien, che lo trovate a Lidl. Poi, tonico per le pelli delicate, sempre della linea Oxyology. Pacchettino di Cotton Fioc. Maschera per i capelli sciupati e con problematiche. Linea Salon Care, sono pazzeschi. Queste hanno la cheratina, vi raccomando questa linea, prendetela. Poi, della Biosea, Biosea vi ho dato che è un brand che si è associato insieme a Fabelic, quindi lo trovate in Fabelic. Quando andate sul sito c'è proprio una voce dove vi dice Biosea, schiacciate lì e vi escono tutti i prodotti. Questa è una lozione tonica, i prodotti Biosea sono prodotti biologici, costicchiano un po'. Questa era una lozione tonificante, ma ragazzi mi è piaciuto un sacco, mi sono comprata altri due, vi giuro. È pazzesca questa, cioè dovete provare se siete quelle con i prodotti bio. Ecco, questo lo butto è quasi integro, ce l'ho usato due volte, non mi piace per niente. Probabilmente sulla mia pelle non si sposa bene, ho sprecato i soldi. Mi dispiace a dire perché voi sapete che io recensisco bene i prodotti di Fabelic, quelli che li uso, questo no, non mi è piaciuto. È una CC Cream con fattore di protezione 10, su di me è proprio acqua pura, anzi mi ingrassa pure la pelle. Probabilmente funziona bene sulle pelle secche e le ragazze giovani, non lo so. Ecco, vedete di cosa vi parlavo nei miei haul. Ecco anche la famosa maschera, perché vedete, ne consumo anche di quelle, si nota i prodotti amati. Gessa, questi sono le salvaslip, cioè le assorbenti notturni per il ciclo mestruale, quello forte. Le trovate da DM, ve le consiglio, sono assorbenti in cotone. Ne ho finiti due, ragazzi, purtroppo anche queste sono cose. Ecco, questi non mi ricordo dove li ho presi. Ah, li ho presi dalla Tigotà, li ho trovati ottimi, ma sono enormi, dei quadrotti, dei maxi quadrotti pretagliati per pulire, veramente, 50 pezzi, linea A, V, Lea. Ma, ragazzi, buonissimi, non ho mai visto così, molto molto buoni. Poi, 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 ecco, ho finito anche questo qua, che sono dei patch, vi ho già fatto vedere io questi per gli occhi. Questo sono con oro 24 carati. Detergente intimo, neutro med, quello per bubù, delicato. Biosea, uno shampoo delicato per i capelli grassi che tendono a ingrassare. Ci ho messo un'eternità per finirlo, perché ne basta proprio poco. Non mi piace molto l'effetto di questo shampoo, però, visto che l'avevo comprato, ecco un altro struccante e l'ho dovuto usare. Anche questi di, lì, ne si idea. Ho finito. Deodorante sotto ascelare per sudore, DAV in stick. Sto cominciando a usare di nuovo questi, perché ho visto che il sudore non, cioè, non mi, non mi odora, un filo di capello, non mi odora più le ascele e mi mantiene anche le ascele asciutte. E quindi, DAV vedo che, di nuovo, ha ripreso avere una qualità buona, perciò sto usando questi. Dischetti di quelli piccoli della Sien, che le prendiamo da Lider, un altro della Setta Blu. Questa crema che mi è stata regalata da mia cognata, c'ho avuto il bagno in schiuma, io non l'ho usata, me lo sono dato una volta, due volte, il resto l'ha usata mio marito, si è trovato da Dio, però è buona, ve lo assicuro. Una crema corpo, detox, linea White Castle, non so, mia cognata me l'ha regalata a Natale. Poi, olio per capelli, proprio un Elisir, con olio D'Amla, della Fabelic, linea Expert, buonissimo. Se avete capelli sciupati, sfibrati, vi consiglio questo, che vi fa bene. Poi, siero al acido aluronico, cioè praticamente al acido aluronico, Makeup Revolution, top dei top. Poi, pelle unghie, la base ristruturante con calcio, Fabelic, buonissimo. Il gel di Essence, che non lo trovo, cioè, io quando lo trovo mi compro sempre 3-4 flacconcini, perché ora sono senza, e come noterete, non c'ho nemmeno fatto la manicure, perché non mi trovo bene con gli altri top coat. Questo, non so, lo metti e 10 giorni, a me mi sta lo smalto. Poi, anche un Nile Restore, che è sempre una base con complesso vitaminico per ripristinare le unghie. Poi, correttore, ne manca poco dentro, però mi si è anche spaccato e quindi ce l'ho da un po'. Ottimo, mi è piaciuto tantissimo, Max Factor, linea Face Finity, buono. Penso poi che me lo ricomprerò e poi qua butto un paio di matite che si sono seccate. Questa roba qui è per le sopracciglia e queste sono delle matite vecchie. Quindi, questo è tutto quello che io ho consumato nel mese di marzo. Che vi devo dire? Direi che sono stata abbastanza, diciamo, che ho consumato, però ci sono periodi che consumo di più. Va bene, chi è di passaggio e vuole fermarsi sul mio canale, fai iscrizione perché qui ne trovi di tutti i colori. Ne vedete tante cose, vi faccio vedere tanti prodotti, recensione, quello che volete. Se ti piace, iscriviti, mi aiuti a crescere con la community e attivati anche la campanella che così sarai avvisato quando io carico il nuovo video. Datemi un like se vi avete trovato interessante. Ah, mi dimentico sempre. Ragazzi, se mi dovete chiedere delle cose, voi lasciatemi i commenti perché io vi rispondo. ho un'applicazione che proprio mi permette di rispondervi direttamente dal cellulare ai commenti. Perciò, se mi dovete chiedere delle cose, scrivetemi. Come al solito vi lascio elencato nell'info box alcune info su di me. Vi mando un bacio grosso e vi attendo alla prossima, non finiti del mese, al prossimo video. Ciao, ciao!